Sul listino di Piazza Affari dove il Fuzzi Mib si è fermato a 22.646,08 punti, meno 0,15%, la notizia del giorno è rappresentata dal possibile matrimonio tra Fiat Chrysler, più 9,53% e Peugeot, seduta da dimenticare invece per Pirelli, meno 10,67%, dopo il nuovo rinvio del piano industriale e la revisione delle stime.